Sui dissesti stradali l'amministrazione comunale corre ai ripari chiamando in causa la Napoli Servizi. Con il nuovo consiglio di amministrazione della società infatti si sta lavorando ad una riorganizzazione interna che renderà disponibile circa il 20% delle risorse umane da dedicare a nuovi servizi per la città. Uno di questi sarà proprio l'intervento per la riparazione delle buche stradali. Gli uffici dell'assessorato al bilancio hanno reso noto in particolare che nel nuovo piano industriale della Napoli Servizi è prevista la creazione di un servizio di manutenzione stradale composto da circa 50 lavoratori distribuiti su più turni per garantire un intervento sulle 24 ore. Quattro squadre del turno mattutino dal lunedì al venerdì realizzeranno interventi di risanamento degli strati superficiali della pavimentazione stradale fino a una profondità massima di 15 centimetri. Un'ulteriore squadra sarà attiva al mattino, due di pomeriggio e una di notte nei festivi per eseguire azioni di pronto intervento stradale come transennamenti, riempimento buche con asfalto a freddo, spargimento sale e altro. Il servizio, che naturalmente avrà carattere aggiuntivo rispetto al rifacimento complessivo dei manti stradali, sarà attivato nel corso del mese di aprile e prevede il coinvolgimento delle municipalità che potranno segnalare le emergenze. Le azioni avviate nelle società partecipate e in particolare nella Napoli Servizi per aumentarne l'efficienza, ha sottolineato l'assessore alle risorse strategiche Riccardo Realfonso, dimostrano che è possibile riorganizzare il lavoro liberando risorse umane e destinandoli a nuove attività per migliorare i servizi resi ai cittadini senza incrementare i costi.